Ciao, buongiorno a tutti e benvenuti all'atelier dell'italiano. La settimana scorsa abbiamo parlato di parole che terminano in "-e". Se non hai visto ancora il video ti lascio qui il link. Cette semaine je veux parler simplement d'un mot, no, deux mots, quindi due parole un po' speciali perché sono molto simili in italiano e in francese, ma attenzione alla pronuncia. Questo è uno dei primi libri che ho letto quando ho iniziato a studiare francese. Questo libro in italiano si chiama Il piccolo principe. Allora, il principe è una parola che termina in "-e". Abbiamo visto la scorsa settimana che le parole che terminano in "-e", possono essere femminili e maschili. In questo caso la parola è maschile, infatti il piccolo principe. Qual è il plurale di questa parola? Il principe al plurale diventa "-i principi". Attenzione all'accento, perché se io dico "-i principi", sto dicendo un'altra cosa. Donc, si je di "-i principi", parlo de "-i principi", ma se parlo di "-i principi", sto parlando di "-principe". Dunque, attenzione a dove cade l'accento. Lo so, non è facile. In italiano l'accento grafico è solo alla fine delle parole, quando c'è. Nel resto delle situazioni il faut savoir. Allora, il principe, i principi, i principi, ma allora qual è il singolare di principi? Il singolare di questa parola è il principio, il principio. Queste parole si chiamano omografi. Sono parole che si scrivono nello stesso modo, ma si pronunciano diversamente e hanno un diverso significato. Je vous donne encore deux exemples de ces mots che on écrit de la même façon, ma qui ont des significats différents. Come si chiama questa? Questa è una pesca. Pesca. Mentre questa attività è la pesca. Pesca. E ancora. Questa è una. Un ancora. Ancora. L'accento è sulla prima A. Ma se voglio dire ancora, in italiano è ancora. Quindi l'accento è sulla O. In francese esistono delle parole così? Je pense que oui. N'oubliez pas di vi abonner a la chaîne, se non l'avete ancora fatto, di lasciare un like, un commentare e di télécharger mon ebook gratuito sulle 15 errori che non farei più in italiano. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!